Il primo bilancio della città metropolitana in una fase in cui la città metropolitana è in via di costruzione, quindi come tale è un bilancio che risente di una fase di avvio e risente anche ovviamente di un quadro finanziario e legislativo che è ancora in essere, è in corso di approvazione in Parlamento il decreto antilocali e quindi dovremo tenere conto di quello che lì emergerà, che oggi non è ancora definito, è in corso di approvazione la legge regionale sulle città metropolitane e sulle aree vaste con la definizione di quali competenze la Regione intende trasferire, quindi è chiaro che noi approviamo oggi il bilancio a scenario finanziario e legislativo vigente, ma a settembre dovremo assestarlo tenendo conto di quello che il Parlamento avrà deciso in queste settimane e la Regione avrà deciso in queste settimane.